Il volume a cura di Vincenzo Ampolo, scritto a più voci, Epifanie della coscienza, dissociazione e creatività, tratta di universi veramente ancora poco conosciuti, dell'animo umano, della coscienza, degli stati attraiti di coscienza, dei loro rapporti con la creatività. A me cara la poesia non può che riuscire spontaneo a citare l'intervento di Donatella Bisutti su poesia e dissociazione, ma ovviamente anche gli altri interventi, da quello stesso di Vincenzo Ampolo a quello di Marta Ampolo e quello di Eugenio Imbriani e altri, compongono un mosaico interessantissimo di argomenti che a tutt'oggi possono risultare quasi di confine e che hanno un sapore tra l'iniziatico e l'esoterico. Un lavoro comunque fatto in maniera assolutamente puntuale e forse unico nel suo genere che consiglio caldamente di leggere a tutti i credit del volume nell'infobox di questo video e ovviamente il link per acquistarlo.